Tante vite perse lungo la statale ionica 106, conosciuta come la statale della morte. Il pericoloso tratto tra il parco archeologico di Sibari e il ponte che attraversa il fiume Crati continua a essere teatro di tragedie. Nella tarda serata di ieri si è verificato un nuovo incidente mortale, proprio nel punto in cui il 14 agosto del 2021 persero la vita tre giovani ventenni. Questa volta è un giovane di 19 anni, Mattia Porto, di Papanice, frazione di Crotone, a perdere la vita. Stava tornando da Napoli insieme ad altri quattro ragazzi, tutti a bordo di una Toyota Yaris presa a noleggio. Rispetto alle informazioni iniziali è emersa una ricostruzione diversa dell'incidente. Sembrerebbe che la Toyota Yaris, per cause ancora da accertare, abbia deviato nella pericolosa curva, invadendo la corsia opposta e sfiorando un Audi A1. Successivamente la Yaris avrebbe sfondato il guardrail, terminando la sua corsa sotto il viadotto. Il corpo del giovane è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco, del distaccamento di Rossano. Due passeggeri gravemente feriti sono stati prontamente soccorsi dai sanitari del 118 e trasferiti d'urgenza a Cosenza. Le dinamiche dell'incidente sono ancora oggetto di indagini da parte delle forze dell'ordine presenti sul luogo, tra cui i carabinieri della compagnia di Cassano Ionio, la polizia stradale e le squadre di Anas. Il traffico è stato bloccato in entrambe le direzioni.